Ciao a tutti, ieri c'è stata la live buasta di Davide dal titolo Fate sempre più schifo, in caratteri alfanumerici, da un po' che non leggevamo questi titoli, ed eccoli qua insomma di ritorno. Allora, che cosa dice in questa live? Innanzitutto dice che la moglie non gli dà alcun copione da leggere, perché insomma noi siamo convinti che lui quando fa queste live abbia un copione, dice che non ha appunto nessun copione, altrimenti si sentirebbe che io sfogliassi e leggessi, così dice lui, parole sue insomma. Dice che Arcistufo, che da bocche sporche, e poi lascia in sospeso, perché lui fa così, comincia una frase, poi ne comincia un'altra, lasciando in sospesa la prima, insomma non si capisce da queste bocche sporche, insomma. Per dire che lui ha una testa pensante, dice che c'è bisogno che lui mandi da uno bravo gli haters, evidentemente, perché non si vogliono capire le cose, cioè non si vuole accettare la realtà dei fatti. Questa realtà dei fatti sarebbe che lui è una persona capace di intendere e di volere, di fare e dire ciò che vuole. Per esempio, dice che se lui vuole tirare un pugno al muro, non deve aspettare la moglie che gli dice tira un pugno al muro, e poi non sarebbe così scemo da tirare il pugno al muro. Cosa significa questa cosa? Lo sa soltanto lui. Dice che la moglie ha fatto una live dove afferma solo ed unicamente la verità, che ci sono stati commenti che non fanno riposare in pace sua nonna, insomma, che si calpesta il suo dolore e che lui ha una soglia del dolore molto grande. Ma quando questa soglia verrà superata, lui sì che farà vedere il copione a qualcuno. E Chiara, praticamente, che sta mangiando, insomma, dice che questo copione verrà scritto dall'avvocato. Dice che se lui fosse una persona di M, non si farebbe fare un copione, ma agirebbe lui di conseguenza. Lui che di fronte alla legge, queste sono parole sue, è pulito. Quando va al casellario giudiziario e gli rilasciano i fogli, su uno c'è scritto pulito e nell'altro nullo. Quindi lui è pulito nullo o nullo pulito, che dir si voglia. Consiglia di stare attenti perché lui non ci mette né uno né due a pestare i piedi, e se poi i piedi li pesta lui sono dolori marci. Dice che comunque le cose le ha dette già la moglie, aggiunge lasciateci stare, e dice che la verità comunque verrà a galla. Dice che loro sono puliti e che dormono fra sette guanciali, perché se uno è pulito dorme tranquillamente, perché sa che loro non fanno nulla di male, altrimenti non si comporterebbero così. Poi ribatte ancora una volta sulla questione dei carichi pendenti, però io vorrei dire a Davide che ci sono molte persone che delinquono, che non sono ancora stati scoperti, e quindi attenzionati dalle forze dell'ordine e che hanno i carichi pendenti puliti. Dice che quando fanno le live buasta lo fanno solo per difendersi, dalle calunnie che gli vengono gettate addosso. Parla di fiamma dicendo che l'ammira perché si è ricreduta, ha messo la faccia, ha chiesto scusa, dando le sue motivazioni. E lui ammira queste persone che dicono posso essere stata plagiata, ma alla fine mi dispiace, insomma, e quant'altro. Quindi se da un lato l'ammira perché si è ricreduta, insomma, perché ha chiesto scusa, perché ha eliminato tutti i suoi video dal suo canale, d'altro canto la reputa, insomma, una persona che si fa plagiare così facilmente poi alla fine. Fiamma scrive in chat che lei si è ricreduta, che Chiara l'ha trattata benissimo e che l'ha difesa quando tutti i suoi ex utenti, insomma, le dicevano delle cose veramente brutte e le auguravano anche la morte. E Davide a questo punto dice che la morte non si augura neanche a peggior nemico. E devo dire che se lo dice lui, che non ha mai augurato ad una donna di morire o di bruciare viva, insomma, gli crediamo sulla parola. Dice che Fiamma non ha fatto come quelle persone che vanno da loro dicendosi pentite, poi tornano dai loro padroni, i padroni li intortano, poi tornano un'altra volta da loro e ricominciano. Non ho capito cosa volesse dire, ma comunque. Invece Fiamma è stata coerente ed è così che le persone si dovrebbero relazionare. Dice che tutti gli ex utenti di Fiamma dovrebbero prendere esempio da lei, quindi tutti ex utenti di Fiamma, mi raccomando, andate nel canale di Davide, scusatevi, o di Chiara, scusatevi. Se avete un canale con dei video compromettenti, cancellateli e, insomma, prendete cosciente di ciò che è la verità. Lui dice che queste sono esperienze, insomma, che ti fanno capire perché l'hai fatto, come mai hai sbagliato, perché poi ti sei ricreduta e hai chiesto scusa, insomma, e tu hai cambiato la tua personalità. E Chiara a questo punto lo corregge dicendo che non si cambia la personalità. Dice che i canali di scolo intortano i propri utenti, però anche loro, insomma, è colpa anche loro perché si fanno plagiare. Qualcuno ad un certo punto gli fa notare che non è bello parlare di padroni in relazione ai canali di YouTube perché a questo punto anche gli utenti che stanno sotto le loro live, insomma, dovrebbero essere dipendenti da Davide e Chiara che in qualche modo sono i loro padroni. Lui dice che i padroni dei canali di scolo ordinano all'utenza quello che devono fare e se non lo fanno li sbattono fuori. E su questa affermazione io direi di fare un minuto di silenzio perché non si può veramente sentire, cioè è veramente qualcosa di assurdo. Comunque, un utente dice che seguiva Fiamma con gioia, a un certo punto lui legge, prima non capisce questo messaggio, poi glielo fa capire Chiara e allora che fanno? Bloccano questo utente. Quindi, Fiamma che si è ricreduta fa la moderatrice, però se va sotto le loro live qualcuno che dice che, diciamo, che seguiva Fiamma e la seguiva anche con una certa ammirazione, diciamo, con una certa gioia, ecco, come ha usato questo utente o questa utente, loro bloccano. Perché? Perché se è vero che comunque i video di Fiamma facevano ridere anche Chiara, evidentemente non possono far ridere nessun altro. A un certo punto cambia, diciamo, l'argomento della live, si comincia a parlare di Milano, della Milano sotterranea e delle zone da visitare e lui, Davide, dice che se vi trovate andate a vedere via Monte Napoleone, via della Spiga, Alessandro Mazzini, poi si corregge e dice via Mazzini. Comunque, a un certo punto si alza e si siede Chiara. Ancora una volta parla di vodka e del famoso video con la voce, con la voce, insomma, che è stata attribuita alla compagna di Giuseppe e dice che questo l'ha fatto, ha pubblicato i video lei, sia di Fate che di vodka, non per mancare di rispetto a qualcuno, ma per far vedere che tipo di persona sono. Dice che comunque privatizzerà il post di vodka che lo definisce, cioè Chiara definisce vodka, una persona viscida, un bullo, una persona subtola e ipocrita. Perché? E dice che è anche un codardo. Perché? Perché dice che vodka in una live si scusò con lei e disse che era un suo ammiratore. Si erano anche scambiati i numeri di telefono, si parlavano su WhatsApp, insomma, e quant'altro. Dice che però ad un certo punto le persone si erano cominciate a rivoltare contro vodka dicendo che erano deluse dal suo comportamento. Cioè per il fatto che, insomma, era diventato in qualche modo un amico di Chiara, diciamo un fan di Chiara. E dice che vodka non può fare la morale a fiamma perché, a differenza sua, questa fiamma, insomma, si è presa di tutto, insomma, dai suoi ex utenti e che non si è venduta per quattro disagiati. Dice che vodka, per paura di perdere utenti, si era inventato che era tutta una trollata, insomma, anche se realmente è un suo fan. Dice che è un cretino frustrato che la segue con ammirazione. Lo chiama pisciaturo perché, Chiara dice che è un pisciaturo, perché, insomma, deve ancora crescere come persona. Dopodiché ritorna Davide, insomma, e si ricontinua la live parlando di Tiziano Ferro che è andato in America per adottare un figlio. Si parla anche della canzone 2000 minuti e Davide dice che la canzone non dura 2000 minuti e quindi che è una truffa. Un po' come i genovesi, insomma, che i genovesi, gli scozzesi o quant'altro che andavano a vedere il film La Storia Infinita, dopodiché una volta visto rivolevano il biglietto indietro perché la storia non era infinita. E niente, insomma, la live poi si trascena un altro po', poi alle canoniche due ore finisce. Allora, cosa dire? Innanzitutto io direi di smetterla di parlare dei canali di scolo che intortano, plagiano, mandano la propria utenza, insomma, contro di loro, contro Davide e Chiara nelle loro live, insomma, trollarli, perché a questo punto io potrei dire che anche tutte le persone che vanno a messaggiare o vanno sotto le live dei canali di scolo a disturbare sono mandati da Chiara e Davide. Cioè, se tanto mi dà tanto, questo è, insomma. Io credo che ogni persona abbia, io credo, io sono sicura che ogni persona ha talmente tanta intelligenza da non farsi plagiare da nessuno che possa decidere autonomamente cosa fare, quando farlo, senza che nessuno, insomma, gli dia ordini, che è una cosa veramente... fa orrore soltanto pensare che una persona possa dare ordini ad un'altra persona, e ordini del tipo vai da loro, disturbali, scrivi questo, scrivi quello, e fa ancora più schifo pensare che questa persona poi possa in qualche modo obbedire, insomma. Quindi piantiamola con questo discorso dei padroni e dei servi, insomma, perché veramente non ha senso. Io una cosa mi spero e auguro vivamente, mi auguro, insomma, che si smetta di parlare di ciò che è accaduto a Giuseppe, che si lascia in pace, insomma, tutta questa storia, perché veramente se ne è parlato anche fino a troppo. E questo è tutto. Se volete iscrivetevi al mio canale, se volete lasciatemi un like, se volete lasciatemi qualche commento. Io vi saluto, vi abbraccio tutti, e vi auguro ancora una buona giornata. Ciao!